this is you and I, there is no one in the room I'm a rimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more che chic mamma e figlia la 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 wow che belle allora ragazzi stasera c'è napoli lazio e roma atalanta mandatemi i risultati esatti grazie domani sera siamo su twitch della bov tv prepariamoci che domani sera ci sono le fiammate le fiamme roma atalanta 1 a 1 solo una persona ha azzeccato il risultato però non ha azzeccato il secondo perché mi sa che mi ha messo 2 a 1 per la lazio 1 a 1 del napoli una roba del genere quindi sta vincendo 2 a 0 dopo mezz'ora quindi siccome non ha preso nessuno